Il caro carburante si fa sentire anche per la misericordia di Arezzo, adesso l'allarme che lanciate è quello relativo al trasporto, ancora insomma è gestibile con questi costi ma è a rischio? Siamo a rischio anche perché è un costo che noi tutti i giorni dobbiamo affrontare, non è che ci viene salto a la mente. È chiaro che l'aumento di questo prezzo ci comporterebbe anche un eventuale aumento per quanto riguarda i vari servizi extra-ase, però a questo momento cerchiamo di tirare un pochino come si dice la Cigna e accontentare un po' tutti. Negli ultimi mesi è stato un aumento costante quello della benzina? Ma noi da aprile ad oggi siamo passati da 1,759 a 2,009, insomma sono cifre abbastanza preoccupanti considerando che facciamo una media di 33.000-35.000 km al mese, sono quasi 3.000 km al giorno e la benzina occorre sempre. L'appello è alla Regione, da Regione ricevete il rimborso delle accise ma purtroppo questa misura non è più sufficiente? Non è sufficiente anche perché ormai i prezzi di servizio sono rimasti a 7-8 anni fa, insomma oggi siamo nel 2022, bisogna che a un certo punto anche questa associazione venga riconosciuto non solo un certo rimborso ma anche i vari sacrifici che vengono fatti per mantenere in piedi questa struttura. La Regione si chiede un adeguato prezzo per quanto riguarda i servizi che siano equiparati al costo che noi affrontiamo perché non è solo la benzina, è tutto legato all'insieme all'aumento dell'energia elettrica, all'aumento dei vari materiali per le pulizie delle ambulanze, all'acquisto delle gomme, c'è tutta una spesa che purtroppo oggi con quello che ci viene riconosciuto comincia a essere un po' preoccupante per il bilancio. Potrebbero essere a rischio anche i trasporti un domani se non si trova una soluzione? Beh, è vero che è un'associazione di misericordia che deve cercare di aiutare il più possibile tutti, però quando si arriva in fondo al mese consiglio che noi qui abbiamo quasi 27 dipendenti di propaga, non è che diciamo che più che in un'associazione comincia ad essere una piccola azienda, di una certa entità, sì che dobbiamo pensare a queste 27 famiglie che oggi il posto di lavoro non è facile trovarlo, noi ne le diamo e tutti i mesi citiamo di onorarlo e è chiaro che con l'andare del tempo siamo un po' preoccupati.